Benvenuti All'Accademia Le Muse Cucciua, Cucciua, Cucciua Saranno loro con il proprio talento, sudore, dedizione e personalità a mettersi in gioco durante le lezioni Esprimendo così le loro potenzialità artistiche Dovranno saper cantare, recitare e esprimersi con il corpo E per farlo dovranno mettersi al servizio di una storia e di un personaggio che dovrà prendere vita È difficile mettersi a nudo esprimendo liberamente le proprie emozioni Soprattutto se a questo si aggiunge lo studio dell'edizione Essendo poi la cadenza siciliana tra le più caratterizzate È difficile superare gli errori di pronuncia e di cantilena Recitazione con i ragazzi dell'Accademia Le Muse, sezione musical I personaggi sono bianco, nero, rosso, colorato e un altro lo chiamiamo beige È in scena un personaggio vestito di bianco che segue degli esercizi strani con la voce Io ho sempre sognato di cantare e recitare e perché no di muovermi Allora Esprimendo con il corpo e con la voce Io ho sempre sognato di cantare e recitare e perché no di esprimere con il corpo e con la voce Io ho sempre sognato di cantare e recitare e perché no di muovermi esprimendo con il corpo e con la voce Ti ricordi l'inizio del pezzo che facevamo Vai col jazz, soltanto l'inizio? Vai col jazz, guida tu, io ti trascinerò, solo se fuggi mai il pianista no, mi costa qualche me, c'è chi si picchierà, ma vai col jazz. Allora fai questa cosa dicendo, ho sempre sognato di cantare e recitare, perché no? Di esprimermi con il corpo e con la voce. Vieni, vieni, che la festa è qua. Io ho sempre sognato di cantare e recitare, perché no? Di muovermi esprimendo con il corpo e con la voce. Con la voce? Con la voce. Vieni, vieni, che la festa è qua. Tarà, ah, ah. Vai col jazz, reggi i calze in giù, mi metto in libertà. Ah, ah. Vai col jazz. Zingara, la mia mano sa tutto di me. 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 Va bene. Io ho sempre sognato di cantare e recitare, e perché no? Di muovermi esprimendo con il corpo e con la voce. Attenta, con il corpo e con la voce. Attenta a questo, con il corpo, con il corpo e con la voce. Attenta le cadenze. Io ho sempre sognato di cantare e recitare, e perché no? Di muovermi esprimendo con il corpo e con la voce. E di muovermi esprimendo con il corpo e con la voce. Io ho sempre sognato di cantare e recitare, e perché no? Di muovermi esprimendo con il corpo e con la voce. Con la voce. Va benissimo, se vuoi ti dico bravissima. Zingara, la mia mano sa tutto di me. Zingara, la mia mano sa tutto di me. Zingara, zingara, la mia mano sa tutto di me. Zingara, è la strada, è la strada la madre mia. Va bene così. Va bene, Giorgia, cosa ne dici? Facciamo fare un pezzo magari della Genesi a chiusura? Io direi che per questa volta va bene così. Continueremo e faremo la Genesi, faremo tanti altri esercizi. Mancano tante cose, però per iniziare credo che va bene così. Io direi di chiudere per oggi in questo modo. Salutiamo allora tutti insieme i nostri amici che ci hanno accompagnato questo giorno di lezione. Salutiamo i nostri amici in questa bellissima giornata. Alla prossima. E ci vediamo presto. Ciao! Come? Ci vediamo presto. Ciao dalle muse. Ciao. Con la Cade. Le Mio. Le Mio. Domani incomincia da qui, da questi attimi. Se il cuore nei miei occhi avrò intorno a voi qualcosa cambierà